Partecipo a questo evento per parlare del conto termico, che è un meccanismo di incentivazione che deriva dal governo, che utilizza il gestore dei servizi energetici come ente che gestisce questo finanziamento, che è indirizzato sia ai privati sia alle pubbliche amministrazioni, che copre fino al 65% delle spese per interventi di efficienza energetica, che riguardano una vasta gamma di temi come per esempio l'involucro edilizio, la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie, l'illuminazione a led. È molto interessante perché a differenza di altri finanziamenti il conto termico viene rimborsato con un bonifico diretto sul conto corrente del beneficiario, che sia l'ente che sia il privato. Il nostro target preferito della pubblica amministrazione per uno scopo prettamente diciamo sociale, proprio perché ci rendiamo conto del bellissimo patrimonio pubblico edilizio di questo Stato e ci piacerebbe che fosse tutto veramente più efficiente a partire dalle scuole.